Allora, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video dei Milanisti del Web, oggi video sul Milan e parlerò di un argomento scottante, scottante e soprattutto che molti, molti, molti stanno iniziando a parlarne Il Milan può diventare, dopo 9 anni, saranno 10 a maggio, campione d'Italia dopo appunto 10 anni Cosa ne penso? Dunque, il Milan può vincerlo scudetto? Secondo me, no E vi spiegherò il perché in questo video Iscrivetevi al canale, lasciatevi e condividete, visto che siete già qua, iscrivetevi soprattutto E lasciate like e poi condividete alla fine e dite cosa ne pensi di quello che ha detto E poi il vostro amico vi risponderà Dopo, ho detto questo Secondo me non può vincerlo, ma più perché le altre potrebbero vincere Nel senso, aspetta, mi spiego bene, prima che non mi capiate, mi fraintendete Poi nelle live, magari su altri canali, venite a dirmi Tu hai detto il Milan può fare, non può fare, può vincere, non può vincere, siamo campioni Allora, calma Ho solo detto Nel calcio non si sa mai Io gioco a calcio, io so che è benissimo Chiunque può adattare, chiunque Però sono convinto E lo dico anche per esperienza personale Che la vera squadra, se per vincere il campionato si vede A. sulla regolarità B. sulle sue certezze Nel senso che se il Milan fa tanti gol E a marzo inizia a non farne tanti È un problema Perché non sei forte sulle sue certezze O non prende tanti gol E poi a un certo punto inizia a prenderne tanti Psicologicamente è dura Terza cosa Chi ha la rosa più forte e vince lo scudetto A meno che si crea quell'alchimia In quella tua squadra E tutti si trovano bene Tutti esplodono a livello di talento Magari i giovani, affamati E tutti E gli altri, diciamo, non sono nella loro stagione migliore Però quello non è che succede tutti gli anni È difficile Seconda cosa Quarta cosa Dunque, la rosa Le certezze E l'esperienza E la mentalità Ecco, esperienza e mentalità insieme Perché penso che ci siano squadre Che E poi serve anche molta fortuna Diciamocelo francamente Io penso che ci siano squadre Il giorno d'oggi Con più carattere Oddio, più carattere no Più esperienza Scusate Più esperienza del Milan Perché alla fine Se guardate bene il Milan Oltre a Ibra L'allenatore e i giocatori Non hanno mai vinto niente E questo, fidatevi Può pesare alla lunga Perché l'esperienza E la mentalità E la mentalità vincente Non si acquisisce dal giorno alla notte Dunque, secondo me questo è un fattore importante Vedi la Juve che comunque innesta sempre ogni anno Un giocatore Che ti posso dire Un Kulusevski Bala ha vinto Rabiot ha vinto Rabiot ha vinto Ramsey qualcosa ha vinto Qualche community shield L'ha vinta Alexandro ha vinto Buffon Chiellini Bonucci Tranne la Champions Però il resto L'ha vinto Ecco E poi la Juve ha sempre Quel Qualcosina in più Adesso non mi vorrei Non voglio Dire niente Accusare nessuno Diciamo che Nel momento di difficoltà La Juve esce fuori Ecco L'Inter Anche lei è una rosa Che secondo me Non ha giocatori vincenti Alla fine Se vedi anche Lanovic non ha vinto niente De Vrij niente Screener niente Neanche lo stesso Lukaku Sì Forse Forse l'Europa League E un FA Cup Col Manchester United Forse Cioè Però ha Ha una buona squadra Sicuramente ha un organico migliore Di quello del Milan Il problema dell'Inter È soprattutto l'allenatore Il Napoli Il Napoli ha Secondo me è una squadra Che comunque ha i vertici È matura Il Napoli secondo me è maturo Perché vedi che Comunque i Manolas E I Kulibaly I Zilinski I Mertens Ginsigni Hanno comunque 28 29 30 anni E i campionati Secondo me Li vince anche chi ha più esperienza Come ho detto prima Dunque Rosa In mentalità Io vedo squadre superiore al Milan Poi ora A dire che il Milan non vince Ce ne passa Perché Siamo a dicembre Sì dicembre Lo sto registrando il 30 Novembre Domani siamo a dicembre Dunque è presto È presto Bisogna vedere Due cose importanti Che poi potrò Gliere la mia Allora io inizio a dire Che il Milan Non deve avere la pretesa Di vincere lo Scudetto Noi dobbiamo Partita per partita Far parlare il campo Far parlare i risultati Cercare di vincere Il più possibile Cercare di fare sempre La nostra partita Dominando la partita Se poi arrivano i risultati Bene Però non dobbiamo pensare Ok abbiamo vinto il derby Allora andiamo a prendere il campionato Per dirti Ok abbiamo vinto il derby Testa quella dopo Per dire Abbiamo vinto con la Juve Testa quella dopo Testa l'Europa League Non testa A maggio Testa Tipo il Napoli Quando aveva vinto contro la Juve Che hanno fatto i fuochi d'artificio Poi Io amo i napoletani Amo La fuocosità Di Napoli Amo la città proprio di Napoli Sono appassionatissimo Di Napoli Però per dire Là è stato eccessivo Fossi stata Forse una mentalità Più vincente Del Napoli Hai vinto con la Juve Bene Adesso si continua E si va avanti Invece là Si è stato un po' troppo uscito E dunque Niente Dunque Mercato del Milan Che dovrà sicuramente Comprare un vice Allora un vice Ibra Secondo me serve Perché Vedo un Rebic Che va più defilato Vedo un Rebic Che va più defilato E poi serve un'opzione Alla davanti Perché le Aue e Rebic Secondo me è su un seconde punte E se no Devi sempre utilizzarlo là Come Rimpiazzo Dunque prendi un bel vice Ibra Anche Uno Per dirti Un Caicedo A me un Caicedo Come vice Ibra Piacerebbe Ho detto un nome a caso Per dire Giocatore Alla Cornelius Un Cornelius Va bene Così c'è Per dire Poi un difensore centrale Sicuramente Completere il reparto Con un altro trezione Perché Calulu Fa proprio Non gioca Dunque Da quello che hai capito Sarà mandato via E niente Mediana si è messi più o meno bene Questi sono un centrale Un vice Ibra Se proprio vuoi fare Il mercato perfetto Esterno destro Però già Se mi prendi un vice Ibra Non mi prendi un esterno destro Perché se hai coperto Hai Leao Rebic Ibra davanti Più un altro esterno Più un vice Ibra Dunque In caso Smisti loro Leao Rebic Salemakers Brahim Diaz Cialanog Sarebbe benissimo Un terzino Per completare il reparto Per avere Dalot Calabria Hernandez Un quarto Perché Calulu È una promessa Che però Maldini Da quello che ha fatto capire Se ne andrà Niente Dunque per adesso Io dico no Il Milan Non può vincere Lo scudetto Testa Partita Dopo partita Partita dopo partita E facciamo parlare il campo Avanti AC Milan Iscrivetevi al canale Lasciate like Condividete Sempre 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 Avanti AC Milan Ciao